Travaglio condannato in sede civile per aver diffamato anche una giornalista, persino le colleghe di fama. Quell'uomo è arrivato a 14 condanne, di cui una penale è tecnicamente un pregiudicato e Davigo è stato condannato in appello. Noi facciamo il tifo perché egli si è assolto, perché noi non siamo giustizialisti come lui. Quello però che non è chiaro, aspettate un secondo perché non è questo il punto, il punto successivo è quello che vale, è che Travaglio e Davigo continuano ad andare in televisione a fare la morale agli altri con un sistema della comunicazione che li esalta a punti di riferimento quando sono soltanto Travaglio e Davigo.